Musica Rendere le città metropolitane inclusive, sicure, durature e sostenibili, cosa significa per la città metropolitana di Napoli? Significa molto innanzitutto perché è stato firmato un protocollo di intesa con tutti i sindaci della città metropolitana da parte di Luigi De Magistris. Quindi noi come città metropolitana aderiamo a questo progetto e nell'ambito di questo progetto la finalità è quella di rendere la città stessa metropolitana inclusiva e di renderla quando più vivibile possibile. Noi interveniamo nel settore dell'ambiente con la città metropolitana e quindi a sostegno di tutti i comuni della provincia che aderiscono al progetto e quindi noi finanziamo i progetti affinché aumenti e si incrementi il verde pubblico in ogni comune della città metropolitana. Finora cosa concretamente la città metropolitana ha fatto per l'ambiente e la difesa del territorio? Ha fatto molto perché la città metropolitana è impegnata al controllo delle attività per quello che riguarda la questione della gestione dei rifiuti, per quello che riguarda le discariche, molte volte in sofferenza, però noi ci siamo sempre, siamo attivi su ogni fase di questo processo ed oggi però siamo concreti avendo approvato nel consiglio scorso metropolitano una delibera dove finanziamo con 400 mila euro il progetto dell'incremento del verde urbano, quindi azioni concrete per aderire al progetto e alla carta di Bologna. Grazie a tutti. Grazie a tutti.